signora ancora una volta in piazza per quale motivo per tutto per tutto e tutti rincarichi ci sono mangimi luce carburante tutto tre anni fa la protesta allo sversamento del latte cosa è successo da allora non è successo niente qualcuno si è mosso per aiutare ma che cosa che cosa niente e le aziende oggi come stanno stanno soffrendo stanno male stanno morendo se continuiamo così c'è il problema legato al mangime tutta la corrente tutte le cose una catena lei di dove io sono di uliena quindi oggi qua per rappresentare la comunità di uliena per far sentire la voce del genere certo e cosa si sente di dire ai politici alle persone che cosa che non stanno facendo niente solo promesse basta grazie niente